Un boato sordo e cupo squarcia il silenzio e la notte del centro Italia. Sono le 3 e 36 del mattino arriva la prima scossa di magnitudo 6.0 con un epicentro ad accumuli nel Rietino e rade al suolo Pescara del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Arquata del Tronto è uno dei centri più colpiti. Alle 4 e 33 arriva la seconda di 5.4 epicentro vicino Macerata. Le scosse sono state avvertite maggiormente in quattro regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche. Nella nostra provincia non si registrano danni di particolare rilievo se non a Pesaro all'arco Miralfiore già messo in sicurezza e la facciata del Duomo di Urbino che ha subito danneggiamenti ed è stato interdetto in maniera precauzionale all'accesso. I vigili del fuoco del corpo di Fano sono stati impegnati nella notte per lo più per aperture porte dato che diverse persone svegliate dalle scosse si sono riversate nelle strade e nella foga del momento hanno lasciato le chiavi all'interno delle abitazioni. Sul fronte delle forze in campo dal nostro territorio a Pescara del Tronto sono in azione i volontari del gruppo cinofilo della Croce Rossa italiana di Fossombrone, Marco Motta con il cane Spike già sul podio del campionato italiano e Gianna Rosati. Da Fano due unità dei pompieri si sono uniti alla colonna per raggiungere i luoghi del sisma oltre alla colonna scout della protezione civile di Fano partita nelle prime ore del mattino. Quando siete stati allertati? Noi siamo stati allertati praticamente dal momento che abbiamo sentito il sisma ci siamo autoallertati e alle sei e mezza ci è arrivato l'ordine di prepararci e partire per direzione a Rieti e questo è tutto quello che sappiamo. Cosa state allestendo? Ve lo state preparando? Quando arriviamo a Rieti ci daranno indicazioni. Qui partite con dotazioni standard? Adesso parte una squadra di scouting per verificare il territorio e molto probabilmente si parla di allestire un campo. Il campo di telecomunicazioni o anche di altro cucina? Attendete notizie. In questo momento qua. Telecomunicazioni sicuramente partiamo con mezza squadra di telecomunicazioni e mezza squadra di logistica per le verifiche dei campi. Ok, quanti uomini più o meno saranno impegnati qui del vostro gruppo? Da Fano adesso partiamo quattro persone come scouting, poi dopo comunque il gruppo è il CB, stanno partendo anche da Tresana, da Massa Carrara e da Lodi. Quindi voi quattro siete quelli che andate giù e verificate un po' la situazione? Insieme agli altri che arriveranno poi ci uniremo in colonna. Nel pomeriggio sul web e sui social è partito il tam-tam della solidarietà. Serve tutto e di tutto, cibo, vestiario, vettovaglie, giochi, per chi non ha più nulla ormai se non salva la vita. Al bar polvere di caffè punto di raccolta dei ragazzi della Curva che poi conferiscono al Codma dove il comune di Fano ha allestito il centro di raccolta principale gestito dai volontari del CB Club Mattei. Stiamo qui, stiamo raccogliendo cibo, vestiario e queste cose da portare in aiuto alle persone che chiaramente, come non so, avrete visto sicuramente delle immagini un po' forti stamattina, alle persone che praticamente hanno perso un po' il tutto. Fino a che ora sarete qui? Ma non dico H24 ma quasi. Quasi, quindi chi ha possibilità di darvi qualcosa basta che si metti in contatto? Sì, basta che ci chiama, eventualmente se saremo chiusi basta che chiama il numero, basta che vanno sul nostro sito, vedono il numero, ci telefonano e noi sicuramente verremo qui a farci consegnare le cose. Anche domani nella giornata di domani? Beh sì, anche domani, finché ci sarà necessità sicuramente saremo qui noi.